gentili telespettatori buona giornata la simpaticissima elena etel detta ellis line ci regala un'altra frase senza senso è bello e ascoltare le frasi senza senso di elena perché ci rallegra la giornata è un politico che secondo me non è un politico è un politico che non è un politico come un calciatore che non è un calciatore non è un politico la schline davvero non so che cosa ci faccia lì però è lì non so cosa si fa però è lì va a cinque minuti da vespa beh intanto in questi giorni ci ha stupito per aver condannato il dossieraggio ma attenzione pensateci bene lei ha condannato il dossieraggio perché a quattro giorni dalle elezioni in abruzzo il caso dossieraggio non fa altro che portare voti al centrodestra chiaro allora lei condannandolo dicendo io la penso come voi ha spiazzato la narrazione del la sinistra complotta contro di noi cioè lei dicendo come capo del pd dove non ci sono persone spiate nel pd ma tutti gli altri sono spiati intorno al pd lei dice una cosa assurda bisogna chiarire uno scandalo di gravidà inaudita se ci sono stati questi 800 accessi proibiti probabilmente lei non sa neanche cosa sono gli accessi proibiti però fa niente non è una mia opinione magari lei lo sa meglio di me probabilmente e così elena etel ospite da bruno vespa cinque minuti su rai uno parla solo cinque minuti peccato avesse parlato 15 ci avrebbe regalato delle frasi bellissime da manuale del non senso va bene però lei parte parlando della gravità inaudita del dossieraggio e questo ribadirlo continuamente nelle ultime ore secondo me è dato dal fatto che una che qualcuno l'ha consigliata come strategia elettorale prendi questa posizione per limitare l'aumento di voti che questo caso porta al centrodestra ebbene dice vedremo adesso sia cantone che melillo in commissione antimafia che cosa diranno è necessario che cose come queste non accadano più poi parla delle crisi internazionali che ci sono in corso bisogna fermare alcuni paesi c'è un procedimento in corso alla corte dell'aia con accuse abbastanza pesanti per quello che sta accadendo nella striscia e dice non c'è un numero giusto di morti civili la brutalità non può giustificare altra brutalità su questo sono assolutamente d'accordo anch'io assolutamente d'accordo anch'io e poi aggiunge siamo riusciti a far votare alla camera una nostra risoluzione sul cessate il fuoco lo diciamo da ottobre che serve un cessate il fuoco la comunità internazionale li fermi beh ovviamente sarebbe auspicabile la fine di tutti i conflitti che ci sono in giro per il mondo però dirlo è molto semplice convincere le parti a fermarsi e in alcuni casi risulta impossibile vi faccio un esempio all'inizio di uno di questi conflitti mi ricordo che qualcuno in televisione disse una frase che è una verità assoluta disse questo ricordatevi che in una guerra un dittatore non si ferma mai il fermarsi sarebbe l'antitesi della sua dittatura un dittatore per definizione non si ferma mai non può fermarsi se no che dittatura è cosa mostra al suo popolo un dittatore che perde una guerra un dittatore che si ferma perché è stato mezzo sconfitto quindi ricordatevelo tutti questo è i dittatori non si fermano mai a buon intenditor poche parole e quindi quel non fermarsi mai noi che sosteniamo l'altra parte significa che dobbiamo essere preparati a dilapidare tutti i nostri armamenti poi un paese che adesso ha il deficit del 2023 arrivato al 7,2 capite che mancano 40 miliardi più il patto di stabilità sono altri 15 mancano 55 miliardi ma dove si trovano un paese così squattrinato che poi mantiene altri paesi sotto lo sforzo bellico la vedo la vedo molto 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 dura sotto l'aspetto economico non ce la possiamo fare poi Elena parlando invece dell'alleanza con il movimento 5 stelle di giuseppe conte dice abbiamo vinto insieme in sardegna e spero vinceremo anche in abruzzo attenzione al gran finale con i 5 stelle sulle grandi questioni è possibile cercare un accordo tra diversi e noi lo faremo con testardaggine unitaria e sì la testardaggine unitaria che cos'è la testardaggine unitaria vabbè sapendo di quello che sta parlando si può capire che la testardaggine unitaria potrebbe essere tradotto come siamo testardi nel voler perseguire il il fatto che dobbiamo unirci ecco però la testardaggine unitaria insomma è un è un non senso ecco è una cosa che non vuol dire nulla la testardaggine unitaria beh diciamo che non solo lei ma tanti politici hanno di diverse difficoltà a costruire delle frasi mamma mia ieri c'era da floris un politico che era di un terra terra ma di un terra terra ho visto che c'era che c'era lì di battista che mentre lo sentiva parlare faceva delle facce come dire mamma mia come parla questo ma una parlata che dire basica era 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 troppo era uno che davvero non sapeva parlare ma era in trasmissione televisiva a pontificare noi voi io noi voi una cosa una cosa tremenda se andate a rivedere la puntata su rivedi la 7 se andate a rivedere questa puntata di martedì proprio di ieri martedì 5 marzo vi accorgerete di quello che vi sto raccontando grazie a tutti e buon proseguimento di giornata